... che da Vittorio Veneto porta a Trento scalando sia il Falzarego che il Pordoi, due vette mitiche del Giro d'Italia, piazzate però lontane dal traguardo di Trento. Ancora è sempre lui, Rig Van Loi, che va all'attacco, che al di là delle classiche cerca anche la stoccata decisiva per vincere questo Giro d'Italia. E' la Vittorio Veneto-Trento questa tappa, ben 250 chilometri con salite dolomitiche. Rig Van Loi ci prova, guadagna subito un minuto ma al suo inseguimento si portano Galdeano, Garau, Guarguaglini e Boni. Val Loi spera ancora di vincere questo Giro d'Italia, non può contare sulla tappa del giorno dopo con lo Stelvio e cerca di sorprendere gli avversari proprio in questa tappa. Ma Arnaldo Pambianco non commette l'errore di qualche giorno prima nella tappa di Modena, lo lascia andare e praticamente riesce a riprenderlo dopo diversi chilometri. Abbiamo visto anche Imerio Massignan che cerca di anticipare gli altri scalatori della tappa di Pordoi e Falzarego, ma anche lui è bloccato sul nascere in ogni suo tentativo. Qui siamo ai piedi del Falzarego e sono proprio lo spagnolo Galdeano, Garau, Guarguaglini e Boni a raggiungere e a distanziare Rig Van Loi. Queste sono le rampe del passo del Falzarego, una delle prime vette dolomitiche mai affrontate dal Giro d'Italia. Era la metà degli anni Trenta, il primo a transitarvi in cima Fugino Bartali. Le dolomiti sono state inserite nel tracciato del Giro d'Italia nel 1937 e da allora questi sono dei punti chiave di ogni edizione della sfida in rosa. Guardate Arnaldo Pambianco, guardingo e attento nelle posizioni di testa del gruppo quando la strada prende a salire. Iesus Galdeano transiterà per primo sulla cima del Falzarego. Il gruppo insegue a circa un minuto, vedete tra questi c'è anche Guarguaglini, corridore toscano. Abbiamo visto Boni, la bellezza, la magnificenza delle dolomiti. Questo è Gabriele Mass della formazione EMI. Tutti i gregari di Suarez si sono messi in evidenza. Grande squadra, una mezza sorpresa perché questo spagnolo nel 1960 era riuscito a vincere il Giro di Spagna. Ve li abbiamo visti già in primo piano, eccoli davanti al gruppo, anche Till, Gaul, Pambianco. Vito Taccone cerca di anticiparli ma ci sono i fuggitivi in primo piano che transitano in vetta al Falzarego. Iesus Galdeano, squadra EMI, vedete 2117 metri, l'altitudine del Falzarego. Galdeano passa, in seconda posizione a 20 secondi il sardo Garau, quindi Mass, altro atleta della EMI. Taccone Massignan, eccoli a mezzo minuto dai battistrada. Pambianco transiterà a 40 secondi. In discesa, altro colpo di scena, Van Loi non molla e riprova un attacco. Rick Van Loi, con lui Trappè, Brugnami e Massignan. Arnaldo però, ovvero Pambianco, la maglia rosa, capisce il pericolo e non lascia spazio. Guardate le ammiraglie che a rotta di collo cercano di seguire i corridori. La strada non è più bagnata e qui vediamo proprio Rick Van Loi che dopo una discesa spericolata si riporta al comando della tappa. Pambianco però è lì con lui. E c'è anche Junkerman, corridore della gazzola, con il suo capitano Charlie Gaul. Siamo ormai sulle prime rampe del passo del Pordoi. E Charlie Gaul va all'attacco perché è convinto ancora di poter ribaltare la classifica del Giro d'Italia sulle grandi vetti, segnatamente sullo Stelio. Ma vediamo il gruppetto con Rick Van Loi, con Jacques Anquetil numero uno sulla schiena, che affronta le rampe del Pordoi. Sono in 26 questi atleti, ci sono tutti i capitani delle varie squadre, più qualche Gregario. Un formidabile Vito Taccone vuole conquistare altri punti per il Gran Premio della montagna. È un atleta che sta maturando e che sta evidenziando tutte le sue grandissime doti da scalatore. Questa è la cima del passo del Pordoi ed è proprio Vito Taccone che transita per primo su Massignan. Transita anche Brugnami ma tornando Vito Taccone è davvero una grande stagione per lui. La prima tra i professionisti ha solo 21 anni, ha già vinto una tappa, vincere la classifica come il miglior scalatore e al termine di questa stagione riuscirà a vincere anche il Giro di Lombardia. Il tempo si mette al peggio, Anquetil prova a coprirsi, la strada si bagna di nuovo. C'è anche Pizzoglio, il biellese Ezio Pizzoglio in questo trappello e c'è anche Nino De Filippis che al pari di Van Loi prova a buttarsi giù in discesa per guadagnare posizioni. E Nino De Filippis è in classifica e quindi costringe sia Pambianco sia anche Tila di inseguirlo e questo attacco di Nino De Filippis e Imerio Massignan non ha fortuna proprio perché Nino è ancora nelle posizioni di testa della classifica generale. Quarto con un ritardo di 3 minuti e 25 secondi. In questi ultimi chilometri tanti sono i corridori che cercano di portare via la maglia rosa ad Arnaldo Pambianco. Agostino Colletto in questa fase è a ruota di Rick Van Loi. Questa è la lunga discesa del passo del Pordoi verso ora. Primo piano di Franco Balmamion che si rende protagonista di un'azione molto interessante. A 35 chilometri dal traguardo in compagnia di Battistini, Schröders, Pizzoglio, Brugnami e Van Tongerlo questi atleti si avvantaggiano. Il gruppo capisce che c'è un pericolo e il pericolo è rappresentato da Van Tongerlo che in classifica ha soli 3 minuti e 46 da Pambianco. Guadagneranno questi atleti, guadagneranno più di 2 minuti e mezzo. Ecco la volata di Trento e Willy Schröders. Va a precedere Carlo Brugnami, Ezio Pizzoglio e Franco Balmamion. Van Tongerlo guadagna posizioni in classifica e adesso è terzo alle spalle di Pambianco e Jacques Anquetil. Anquetil. Dunque la temutissima tappa del Falzarego e del Pordoi si è risolta in realtà in un... ...Arnaldo Pambianco. È stato lui a chiedere l'aiuto di tanti corridori ma in prima persona si è messo in testa. Grazie. 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 Grazie.